l'intervento di chiusura di Coopera 2022. Grazie Laura, grazie davvero. Bene, siamo arrivati alla conclusione. Ieri mattina ero molto tesa ancora prima di iniziare e ora posso dire davvero di essere soddisfatta, di essere contenta di questa seconda conferenza della cooperazione allo sviluppo italiana, Coopera. Siamo arrivati in fondo e molte persone, non solo dal palco ma anche poco fa in bagno, diciamo, ci siamo incrociati con una ragazza e mi hanno ringraziato, mi hanno fatto i complimenti. Ecco, io penso che questi complimenti non siano per me, questi complimenti sono per tutti noi che abbiamo lavorato per fare questo evento e per tutti voi che l'avete reso possibile. Io ieri sera ho ricevuto un messaggino da uno dei panelist che mi ha anche lui ringraziato per l'importanza della discussione che c'era stata e mi ha detto c'è stato un dialogo costruttivo, un confronto costruttivo come accade di rado. Ecco, penso che ha ragione Fabio Cassese quando dice avevamo il dubbio di dove trovare l'equilibrio tra l'evento comunicativo, mediatico e il luogo di approfondimento e di riflessione. Abbiamo trovato questo equilibrio ma l'abbiamo trovato perché abbiamo cercato dei partner, degli interlocutori, dei panelist, degli speakers che ci hanno consentito di fare quel lavoro lì perché è stato tutto merito loro. Quindi, per dirla con Ivana Borsotto, noi abbiamo fatto il nostro dovere, lo ha fatto il Maesci, lo ha fatto l'Aix, ma anche chi ha partecipato ha fatto il suo dovere. Quindi abbiamo avuto un dialogo vero, un confronto propositivo perché tutti si sono disposti a fare questo. Non c'è stato un panel in cui ognuno diceva il suo e non interloquiva con l'altro. C'è stata una discussione che ci ha consentito di mettere a fuoco, di raccogliere idee, di avere spunti sui quali noi ancora dovremmo riflettere e dovremmo lavorare. Sono stati due giorni molto intensi. Abbiamo avuto le istituzioni italiane al massimo livello, abbiamo avuto le organizzazioni internazionali ad altissimo livello, abbiamo avuto il mondo accademico, abbiamo avuto le organizzazioni della società civile in tutte le loro differenti articolazioni, abbiamo avuto le regioni, l'abbiamo sentito poco fa, i comuni, il settore privato, abbiamo avuto il Parlamento, poco fa ha parlato il Presidente della Commissione Esteri Fassino, ma voglio ringraziare la Vice Presidente della Camera, Maria Edera Spadoni, che è ancora con noi, che è venuta sia all'apertura che ad ascoltare questa conclusione. Ecco, io a tutte queste realtà, persone in carne e ossa, che hanno reso possibile questi due giorni, devo dire veramente grazie. Grazie perché abbiamo fatto insieme un lavoro straordinariamente importante. Andiamo a casa con molte cose ancora in testa, le dovremo riordinare, per fortuna che lo streaming, penso, abbia registrato tutto, quindi se ci manca qualcosa andiamo a ricercare, perché avevamo e abbiamo bisogno di far conoscere la cooperazione italiana nelle sue diverse articolazioni, e questo era uno degli obiettivi, ma avevamo e abbiamo bisogno di un confronto che ci consenta di vedere i passi avanti che abbiamo fatto dalla legge 125 del 2014 e anche le lacune, le criticità che ancora dobbiamo affrontare. Io provo a usare tre punti di riflessione, uno sul passato, sulla storia. Ieri il Presidente della Repubblica molto autorevolmente ci ha ricordato che la cooperazione italiana non nasce con la 125 il 2014 ed è stato molto importante che lui lo abbia fatto, perché ci ha aiutato a andare a ripensare le radici della cooperazione italiana allo sviluppo, che sono radici antiche, che sono radici profonde, che nascono nel secondo dopoguerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale e nascono dalle principali correnti culturali e politiche di questo nostro Paese. La corrente cattolica, la corrente socialista, la corrente laica, cioè nascono dalla dimensione popolare della politica di allora. Non voglio aprire qui questo file che non ci interessa, ma una cosa ci interessa, che la spinta alla solidarietà di quella storia che poi ha avuto uno slancio straordinariamente potente nell'era della decolonizzazione dell'Africa, quella spinta alla solidarietà ha una radice democratica, popolare e partecipativa, che noi qui dobbiamo riconoscere e che noi qui dobbiamo riprendere. non è solo tecnicismo, non è solo competenza, è una radice popolare profonda della nostra storia che noi dobbiamo saper ravvivare, ravvivare. Anche perché questo consente di costruire relazioni solide e durature con i nostri partner degli altri paesi. È questa radice profonda che ci consente di creare relazioni solide e durature. Questo è emerso come una delle peculiarità della nostra cooperazione allo sviluppo, questa dimensione profonda, popolare, territoriale, di comunità della nostra cooperazione. E ieri, che so, Sant'Egidio, Marco Impagliazzo parlava del medodo adottivo, ma anche Emergency ci ha ricordato quanto importante sia e altri quanto importante sia avere delle relazioni durature. Poco prima di questa conclusione nel panel partenariato si è parlato di quanto sia necessario il tempo per costruire i partenariati. Ecco, la radice di tutto questo sta nella nostra dimensione di coinvolgimento, di inclusività nei processi che mettiamo insieme e anche nella capacità di dare a questi processi una loro solidità e duratura, non so come si dice il soggetto, durevolezza, ma non lo so, tenuta nel tempo, diciamolo così. La seconda considerazione, quindi questo è il passato, ma è un passato che ci consegna una spinta ancora vitale. Secondo punto, l'oggi. L'ha detto poco fa a Fassino, l'hanno ripreso anche i due direttori che sono la mia destra e la mia sinistra, la legge 125 del 2014, ad otto anni dalla sua approvazione, mostra ancora una sua sostanziale validità. Noi abbiamo scelto una strada che voleva e cercava di valorizzare, promuovere la partecipazione di tutti i diversi attori che si muovono in questo sistema proprio per dare profondità e solidità alla nostra cooperazione. Se guardiamo all'oggi, se guardiamo a quello che abbiamo fatto in questi otto anni, l'impianto esce confermato. Abbiamo fatto l'AICS, abbiamo costituito l'AICS, è stato detto, si sta irrobustendo, la sua fragilità iniziale diciamo si sta superando, quindi l'AICS si sta irrobustendo. Abbiamo dato un ruolo nuovo a CDP, come banca di sviluppo e queste due innovazioni dal punto di vista dell'architettura erano necessarie, si sono rese necessarie per adattare la nostra cooperazione allo sviluppo, per dare una maggiore strutturazione, una diversificazione anche delle funzioni a fronte di sfide sempre più urgenti e sempre più complesse che dobbiamo affrontare. Abbiamo avuto una conferma di questo fatto. Nella recente revisione di medio periodo che è stata fatta nei giorni scorsi dai funzionari dalla Commissione dell'Oxedac, noi abbiamo avuto la certificazione che questi processi, questo progresso è in corso, questo ci permette di sapere che abbiamo fatto dei passi avanti. Abbiamo approvato il documento triennale con una partecipazione abbastanza ampia, abbiamo fatto un piano nazionale della coerenza delle politiche, abbiamo licenziato molte linee guida nuove, infanzia e adolescenza, eguaglianza di genere, educazione alla cittadinanza globale, è in dirittura d'arrivo come abbiamo sentito ieri la linea guida sull'annesso umanitario sviluppo pace, così come quella in tema di migrazioni e sviluppo, è in fase di elaborazione le linee guida sull'agricoltura sostenibile e sullo sminamento umanitario, quindi ci stiamo dotando di una serie di strumenti, di indirizzi, di linee guida che consentono a questo lavoro di partenariato che è alla base diciamo della filosofia della legge di darci poi anche una concretezza dei materiali, dei manuali attraverso i quali continuare a lavorare. E abbiamo fatto anche qualche altra cosa, poche settimane fa abbiamo istituito il quinto gruppo di lavoro all'interno del CNCS per dare evidenza, lo ricordava la vicepresidente della regione Emilia Romagna Sline poco fa, ma lo ha citato anche ieri Bianco per dare evidenza alla cooperazione territoriale, al partenariato territoriale per anche qui rinverdire quella che un tempo chiamavamo la cooperazione decentrata e che oggi è uno strumento fondamentale ce lo ha ricordato anche Nardella per fare una diplomazia popolare, per costruire processi di pace, per costruire processi di sviluppo radicati nelle società civili dei paesi terzi. Quindi noi abbiamo cercato di dare corpo a questa esigenza anche con un quinto gruppo del CNCS così come abbiamo fatto uno straordinario sforzo negli ultimi due anni costretti dagli eventi, abbiamo fatto uno sforzo straordinario sulla pandemia, siamo stati tra i paesi leader nella scelta di rispondere alla pandemia attraverso strumenti multilaterali e attraverso una cooperazione internazionale forte, strutturata, abbiamo guidato un G20 complesso e io penso che questa mattina la discussione che abbiamo fatto sulla finanza per lo sviluppo ci dice certo la perfezione non è di questo mondo ma se pensiamo che nel G20 si decide per consenso e che non esiste un ruolo della presidenza del G20 che comanda magari ci piacerebbe non è esistita almeno non esiste sulla carta e non è possibile beh noi abbiamo anche sui temi più delicati che è stato recitato poco fa il nodo del debito anche su temi molto complessi come quelli della finanza per lo sviluppo non avremo ottenuto il 100% ma abbiamo fatto dei passi avanti molto significativi che oggi consentono alla presidenza indonesiana di procedere ancora per lavorare in una direzione che è fondamentale per il nostro lavoro di cooperazione allo sviluppo per mobilitare le risorse per avere più risorse per lo sviluppo dei paesi con cui collaboriamo così come abbiamo fatto per la prima volta una ministeriale esteri sviluppo e la ministeriale esteri sviluppo del G20 di Matera probabilmente sarà ripetuta da altri G20 avremo altri G20 dei ministri dello sviluppo che non era mai stato fatto non era mai successo abbiamo fatto finanza per lo sviluppo financing common abbiamo messo insieme i ministri della finanza e i ministri della salute anche qui per cercare di correre ai ripari rispetto a un tema del finanziamento dei sistemi sanitari che è un tema ancora cruciale quindi in questi anni per tante ragioni sono stati fatti dei passi avanti e oggi diciamo oggi questo patrimonio di passi avanti ci deve spingere a guardare al futuro il futuro ovviamente sul futuro la riflessione è più complessa abbiamo tante emergenze la pandemia l'emergenza climatica i conflitti la guerra conflitti che c'erano prima più la guerra in Europa l'instabilità finanziaria e l'instabilità dei flussi commerciali l'insicurezza alimentare che esisteva prima e che si aggrava a causa della guerra dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina tutto questo rende la cooperazione allo sviluppo quanto mai cruciale questo mi pare un altro degli obiettivi di questa conferenza fuori da qui un po' questo messaggio è passato che c'è bisogno di più cooperazione allo sviluppo perché abbiamo problemi più grandi proprio ora che c'è un momento difficile buio per la comunità internazionale proprio ora che ci dobbiamo confrontare con delle emergenze drammatiche a partire dalla guerra in Ucraina proprio ora non ci possiamo rassegnare dobbiamo invece rilanciare dobbiamo essere più ambiziosi dobbiamo essere più coraggiosi e questo messaggio credo che abbiamo lavorato bene insieme proprio per questo perché questo è il messaggio che ci unisce il punto che ci unisce la visione diceva prima la professoressa Colombo la visione è questa che il mondo ha bisogno il mondo è attraversato da troppe tensioni da troppe diseguaglianze e noi abbiamo uno strumento potente che è la cooperazione allo sviluppo per rispondere a queste tensioni a queste diseguaglianze e per essere tutti più sicuri io penso che sia un patrimonio comune di noi qui una idea della sicurezza che guarda allo sviluppo umano che guarda alla persona che guarda al pianeta e che non guarda soltanto alla dimensione della difesa che pure è una dimensione che esiste ovviamente ma la nostra idea di sicurezza è un po' più ampia un po' più larga guardando al futuro quali sono le questioni principali mi pare che ne ho segnate usate ma essendo scritto a mano non me lo ricordo più 5 cerco di andare rapidamente sulle risorse sulle risorse abbiamo siamo di fronte ad una campagna delle OSC 07 ma questo tema è stato citato dal Presidente della Repubblica dal Ministro delle Finanze penso che sia importantissimo questo il Presidente Fassino citava la possibilità che questo possa diventare oggetto anche di un'iniziativa legislativa e naturalmente io faccio la ola diciamo nel caso e forse faccio anche una processione vado a accendere un cielo da qualche parte detto fra noi però è una cosa importante che abbiamo resuscitato il tema dello 07 perché qualche anno fa sembrava impossibile citare questa cosa quindi noi abbiamo fatto un'operazione ognuno per la sua parte importantissima 07 è un obiettivo che l'Italia come paese mantiene e sul quale dobbiamo trovare la strada per raggiungerlo dobbiamo trovare la strada per raggiungerlo c'è un tema di quantità che è fondamentale che riguarda le risorse attribuite al Maesci ma riguarda anche altre risorse quelle che utilizza il Ministero delle Finanze quello che utilizza il Mite quelle che possono essere a vario titolo aiuto pubblico allo sviluppo poi lo so che c'è anche un tema di qualità della spesa però guardate la discussione sulla qualità se non c'è la quantità non ha alcun senso quindi almeno sulla quantità dobbiamo raggiungere dei risultati passare dallo 0,22 allo 0,28 è stato un passo positivo è importante ma ancora abbiamo della strada da fare e dallo 0,28 allo 0,7 sono tanti miliardi di euro sono tanti miliardi di euro dobbiamo saperlo e dobbiamo descrivere un percorso ragionevole graduale percorribile così come dobbiamo lavorare su altri strumenti perché le esigenze aumentano e le risorse sono comunque limitate quindi è molto importante capire come mettiamo la leva del fondo per il clima noi siamo un paese che ha messo una risorsa importante sotto il capitolo fondo per il clima è responsabilità del Mite guidare questa partita ma è importante per noi che si incroci coerentemente con quello che noi pensiamo che sia l'emergenza climatica nei paesi terzi con cui collaboriamo è importantissimo mettere in moto un meccanismo che abbiamo sentito essere partito di riflessione per far funzionare meglio le banche di sviluppo il meccanismo l'architettura finanziaria internazionale abbiamo sentito Franco abbiamo sentito Scannapiego abbiamo sentito Labbaldino su questo e poi naturalmente c'è il tema della qualità anche il tema della qualità riguarda l'efficienza dobbiamo riuscire a spendere in tempi più brevi le risorse che abbiamo devono essere spese in tempi ragionevoli anche quelle per l'emergenza anzi direi soprattutto quelle per l'emergenza dobbiamo essere in grado di spendere in tempi più stringenti e contemporaneamente dobbiamo ragionare sull'efficacia io non mi addentro nelle tecnicalità chi mi conosce sa che mi appassiona anche approfondire questi temi ma non mi non sono un tecnico io non diventerò mai un tecnico penso che l'efficacia dei risultati quindi un lavoro che si misura con i risultati debba rispondere a qualche domanda di fondo se siamo o no in grado se quegli interventi sono stati o no in grado di ridurre le diseguaglianze per esempio se quegli interventi sono stati o no in grado di promuovere davvero le donne e i giovani dei paesi con cui lavoriamo ecco io penso che al di là degli indicatori che sono importanti e non li voglio banalizzare dei marker delle scelte delle piattaforme attraverso i quali analizzare i nostri progetti noi però poi dobbiamo essere come dire di sostanza dobbiamo guardare alla sostanza qualcuno mi ha già sentito fare questo esempio noi facciamo parte come paese di uno steering committee della Local 2030 una piattaforma per la localizzazione degli SDGs e mi ha molto colpito la sindaca di Freetown che introducendo il suo ruolo diciamo così ha detto io non posso andare a dire ai miei concittadini che voglio localizzare gli SDGs io gli devo dire che devo dire loro che porterò dei servizi che creerò delle opportunità che farò delle cose concrete per far stare bene loro ecco anche noi dobbiamo avere in testa questo perché poi tutta la diciamo la razionalità e la necessità di introdurre dei criteri che ci consentano la misurazione dei risultati è importantissima ma anche noi dobbiamo avere in testa che chi riceve chi è con noi partner nella realizzazione di progetti li misurerà poi non dai punteggi astratti ma dalle concrete dal concreto impatto di quelle di quelle progettualità sul territorio e sulle comunità locali che le realizzano così come rispetto alla qualità della spesa dobbiamo e abbiamo cominciato quest'anno con la programmazione di quest'anno riequilibrare un poco l'equilibrio cioè riequilibrare l'equilibrio no riequilibrare il rapporto tra multilaterale e bilaterale io penso che il multilaterale è comunque una parte della nostra spesa importante però è vero che negli ultimi decenni diciamo così ci siamo sbilanciati eccessivamente e quindi dobbiamo recuperare utilizzando le risorse aggiuntive per rafforzare la componente bilaterale della nostra cooperazione allo sviluppo perché questo ci consente di valorizzare quelle peculiarità che dicevo all'inizio non perché dobbiamo fare favori a qualcuno no perché questo ci consente di valorizzare la nostra capacità le nostre competenze le nostre specificità e anche in qualche misura quelle componenti diciamo così dei nostri partenariati che nascono esattamente appunto dal rapporto tra comunità e tra persone la seconda questione riguarda le priorità tematiche e geografiche qui mi limito a fare una considerazione l'Ucraina ci costringerà a fare una riflessione su questo la situazione dell'Ucraina l'impatto della crisi e della guerra in Ucraina ci costringerà a fare i conti con il tema delle priorità tematiche e geografiche il tempo diciamo così il tempo della guerra noi come ha detto stamattina più volte il ministro Cingolani noi speriamo e lavoriamo perché la guerra finisca al più presto perché ci sia una pace condivisa davvero cioè una pace che rappresenti la dignità per l'Ucraina per il paese aggredito ma noi sappiamo che comunque questa emergenza ci costringerà a riflettere a tornare a riflettere sulle nostre priorità tematiche e geografiche in questo contesto però penso che l'Italia debba mantenere chiaro debba avere chiarissimo che il nostro interesse nazionale oltre ad essere a fianco dell'Ucraina e partner dell'Ucraina insieme ai nostri partner europei insieme a tutti coloro che sono dalla parte dell'Ucraina noi abbiamo un interesse nazionale prioritario che è quello di non spengere l'attenzione non ridurre l'attenzione nei confronti dell'Africa del Mediterraneo e Medio Oriente lo diceva Fassino a proposito dell'Africa io ci metto anche l'area Mena noi siamo qui geograficamente siamo lì siamo proiettati verso il Mediterraneo nel Mediterraneo siamo parte di una regione che è l'area del Mediterraneo e siamo inevitabilmente il ponte dell'Europa verso l'Africa questo ha molte diciamo opportunità questo è un tema di grandi opportunità è un tema anche che comporta dei rischi dei problemi delle problematicità io penso che noi tra crisi climatica crisi alimentare e il rischio di crisi di importanti crisi migratorie noi non possiamo che assumere il ruolo in Europa e nella comunità internazionale per far sì che l'emergenza ucraina non cancelli l'attenzione non riduca l'attenzione verso l'Africa verso l'area Mena e dico per altre ragioni verso l'America Latina che è un'area molto meno problematica con molte meno se volete emergenze impellenti ma che rappresenta per noi un terreno di grandi opportunità in cui la cooperazione e il ruolo anche del sistema privato possono aprire grandi opportunità per noi su questo finisco sulle ultime tre questioni la governance la governance e gli strumenti di partenariato qui e gli strumenti di partenariato lì perché noi quando diciamo partenariato diciamo come lavoriamo noi insieme qui tutti i vari soggetti attori che hanno partecipato a questa due giorni e l'hanno resa così utile così importante ma partenariato significa anche come ci rapportiamo con i paesi terzi con gli attori dei paesi terzi quindi il partenariato è doppiamente importante e la governance è molto importante anche perché ci costringe diciamo così cioè ci consente di lavorare insieme a tanti soggetti diversi qui abbiamo già detto il ruolo dell'Aix il ruolo di CDP io voglio solo dire che c'è un luogo principe che ci consegna la legge che è il CNCS il Consiglio Nazionale della Cooperazione allo Sviluppo lo dobbiamo far funzionare meglio lo dobbiamo far funzionare di più quindi dobbiamo convocarlo più spesso dobbiamo far lavorare e assumere con più diciamo coerenza i temi che ci vengono dai gruppi di lavoro credo che sia matura una semplificazione del CICS io sono molto sono stata molto contenta di avere qui dei ministri la ministra Lamorgese il ministro Franco il ministro Cingolani il povero ministro Speranza non ha potuto per ragioni sanitarie ma il CICS che sarebbe il luogo in cui noi lavoriamo insieme a tutti gli altri ministeri interessati alle nostre iniziative non può essere un luogo così complesso abbiamo preparato una piccola semplificazione del regolamento penso che questo sia un obiettivo abbastanza raggiungibile nei prossimi mesi una riunione del CICS con la quale lavoriamo per renderlo un luogo di maggiore facilità quindi in cui si possa lavorare magari non necessariamente a livello di ministri ma con altre strumentazioni per poterci vedere più spesso e per poter fare più quotidianamente quel lavoro di coerenza e di confronto tra le diverse amministrazioni dello Stato sulle nostre politiche sempre a proposito ovviamente di governance è ormai maturo lo sapevamo e siamo arrivati qui con questo impegno è ormai matura un lavoro sulla coprogrammazione e coprogettazione ci siamo presi l'impegno a istituire un tavolo che in tempi brevi ci consegni una procedura una modalità di sperimentazione della coprogrammazione e coprogettazione sulla base della quale entro questa fase della vita del governo e del Parlamento sia possibile sperimentare così come credo che sia possibile a proposito di emergenza provare a stabilire abbiamo fatto un lavoro su questo c'è stata una discussione ieri in un side event molto interessante molto importante credo che siamo abbastanza vicini alla possibilità di trovare una modalità di intervento nelle emergenze che consenta di essere rapidi professionali e di coinvolgere le OSC e non solo le organizzazioni multilaterali le organizzazioni internazionali questo ritengo che richieda una procedura innovativa che dobbiamo tutti insieme condividere ma penso che anche qui i tempi siano maturi anche guardando all'esperienza europea di ECO infine ultime due cose una è il ruolo europeo dell'Italia il nostro lavoro in Europa sempre di più con la pandemia abbiamo visto quanto è importante Team Europe Approach adesso abbiamo le Team Europe Initiatives adesso abbiamo Global Gateway adesso abbiamo degli strumenti in DICI come lo chiamiamo Global Europe eccetera abbiamo degli strumenti europei un po' nuovi un po' diversi da quelli del passato io credo che questo possa essere il terreno di un approfondimento del lavoro comune forse anche qui un luogo specifico in cui tutti i partner università enti locali regioni OSC privato si possa ragionare su come lavoriamo insieme per essere più presenti e più forti a livello europeo non solo per usare meglio le risorse europee ma qualche volta anche per essere un po' propositivi a livello europeo prima lo citava la professoressa Colombo io sono d'accordo però dobbiamo scambiarci delle idee approfondire un po' il tema e anche mettere insieme le nostre risorse umane le nostre forze le nostre informazioni per poter essere più efficaci anche guardando alla priorità Africa l'Africa è una delle priorità importanti dell'Unione Europea e se vogliamo essere un po' protagonisti di questa partita dobbiamo essere presenti in Europa in maniera più incisiva infine un ultimo punto riguarda la comunicazione io intanto approfitto di queste conclusioni per fare un grande ringraziamento alla RAI noi abbiamo fatto un accordo con la RAI che è stata media partnership di questa conferenza abbiamo avuto la collaborazione di grandi giornaliste che ci hanno accompagnato nei diversi panel ma non è stato solo questo la RAI ha seguito molto molto e molto bene questa conferenza ci ha aiutato con uno spot che ovviamente anche diciamo con delle risorse che noi abbiamo messo a disposizione che però abbiamo avuto nei giorni scorsi il tema della comunicazione però credo che sia un po' un tema che dobbiamo imparare a condividere tutto l'anno non solo quando facciamo coopera perché coopera si fa ogni tre anni e la prossima diciamo così è abbastanza distante da noi invece noi abbiamo bisogno di far crescere la consapevolezza tra i nostri concittadini dell'importanza e del valore della cooperazione allo sviluppo e questo non ce la facciamo solo lavorando tra di noi è molto importante che ci sia una comunicazione all'esterno e che questa comunicazione sia costante che ci siano delle finestre che riescano a raccontare quello che noi abbiamo raccontato in questi due giorni ma non solo per due giorni diciamo per 300 giorni l'anno via 65 glieli possiamo dare da buono però noi abbiamo bisogno di questo quindi ragioniamoci insieme io non ho la soluzione non ho una soluzione diciamo precisa in testa però forse partendo dalla RAI e partendo dalla disponibilità che la RAI ci ha dato in questa occasione possiamo insieme fare un tentativo per capire se c'è la possibilità in maniera diciamo più costante nel tempo di fare una campagna una continua campagna di comunicazione che dia conto della pluralità e della bontà delle tante cose che stiamo facendo che state facendo in giro per il mondo e che rappresentano l'Italia nel mondo perché quando appunto il Ministro diceva c'è una grande domanda d'Italia giustamente Luca Maestri Pieri diceva in questa grande domanda d'Italia c'è anche una grande domanda di cooperazione italiana e c'è anche un grande apprezzamento per la cooperazione italiana mi fermo qui grazie di nuovo a tutti io devo ringraziare perché sono state vittime delle mie scenate prima di tutto Laura Ghirarre e Emilio Ciarlo perché voi avete visto la parte buona di me ma c'è anche una parte meno buona di me quindi Laura ed Emilio sono state un po' i parafulmini di queste delle mie scenate della mia ansia devo ringraziare i direttori il direttore Cassese il direttore Maestri Pieri però devo anche ringraziare le tre reti Link 2007 Aoi e Cini che sono stati che ci hanno dato una collaborazione straordinaria veramente straordinaria importantissima così come devo ringraziare la Crui devo ringraziare l'Anci devo ringraziare la conferenza delle regioni devo ringraziare davvero tutti chi è qui per esempio le tre reti i cinque gruppi o quattro gruppi non so se ci sono tutti della CNCS se volete salite facciamo una foto qui davanti a Coopera la ultima foto family photo anche insieme alle persone che lavorano con noi voglio anche ringraziare la mia segreteria perché è stata diciamo il parafulmine del parafulmine grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti